carissimi amici il video si è interrotto non solo se è successo e vabbè l'intervento che va e viene talvolta allora dicevo ragazzi diamo un pochino qui abbiamo fatto le melanzane alla parmigiana ok guys aubergines with tomato sauce lovely 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 now they go in the oven for 20 minutes ok that's my recipe guys there we go I deep fry the aubergines I made a tomato sauce with fresh tomatoes and garlic and onions it was cheese you know parmesan cheese and that's it now they go there in the oven it's the mini tutu ok 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 Grazie a tutti. 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 Facciamo una tortina e li mettiamo in una busta. Li devo frantumare. Ciao Stefano, benvenuto. C'ho anche il cravatino, Stefanino. Cincino amico mio, cheers. E' come sfocato, porca miseria. E non so che fare Stefano, qui l'immagine è perfetta. Allora, mettiamo un po' di crackers in questa busta, come dicevo prima, non uso frullatori, non ho macchine elettriche qui, tutto a mano, quindi uscirà un po' così, ma noi ci proviamo, va bene? Allora, abbiamo un po' di crackers, lo mettiamo dentro. Ok? 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 Allora, prima. Allora, prima, primo passaggio, una bustina. vediamo come va a finire qua. Vediamo un po'. Ecco qua. Ecco qua, ci fate un panno sotto così non scivola. Vimpiamoci bicchiere di birretta, caro Stefano. Bella fresca, eh? Cerchiamo di frantumare i biscotti. Magari adesso faccio un patatracca, eh? Non lo so. Però ci proviamo. Ci proviamo. Allora, i macchellini, vediamo come. Se ci riesco. Tanto meno i biscotti. Crackers. Eh, lo so che voi avete frullatori a casa in Italia, vero? Guys, we're making a cheesecake. Mau crazy cheesecake. This is the first time I'm doing it, eh? So, leave me alone. Ok? No... No... No crazy comments. Allora? Allora? So... Get them together. But make sure I don't break. Put another one. Sì Ok ragazzi, il mio armi è stupendo, eh? Oh, il cravattino Stefanino! Non ho fatto bene neanche il nodo oggi. Cin cin! Adesso facendo la torta per i bambini, no? Se non è buona non la mangia, no? C'è un po' che sbagliato. Ci proviamo. Ho preso gli ingredienti. E vediamo un po' cosa ne esce fuori. Pian piano. Adesso mettiamo a fondere del burro. Mettiamo a fondere del burro. Continuiamo a sallizzare. Andiamo a screttolare i biscotti. I crackers, non biscotti. Insomma, io ci sto provando, ragazzi. Chi mi vuole aiutare? Oggi non volevo lavorare, ma ho fatto un colloquio di lavoro oggi. Madonna, ragazzi. Eh, può diventare impegnativo anche quello, non troppo. Ok? Allora, ragazzi. Adesso mettiamo in una teglia questa poltiglia di biscotti, di tex. Pian piano. Potevo far di meglio, però. Va bene? Piano piano. Adesso prendiamo un'altra bustina. e ci mettiamo delle noccioline. E ci mettiamo e di nuovo testiamo. Insomma, noccioline tostate. Oh, ve la sto inventando la ricetta, ragazzi. Non aspettatevi, chissà che. Avete capito? Non mandate messaggi strani, per carità. Allora, qui abbiamo anche la nostra bella zuppetta. Occhio alle melanzane, però. Stanno andando benissimo. Va bene, ragazzi. Siamo le noccioline e via. Mischiamo tutto. Logicamente, se qualcuno di voi ha l'allergia alle noccioline non le mette, non succede niente. Si può fare la cheesecake senza le noccioline. Ok? Grazie, Daniele. Benvenuto. Sto facendo la torta pazza senza frullatori né niente. Cin cin. Allora, ragazzi. Adesso aggiungiamo il burro a questa a questo miscuglio e poi lo mettiamo in forno. ecco qua, ragazzi. Allora, devo mettere circa un bel paio di cucchiai di burro che ho qui fuso. Mettiamo sei cucchiai. Uno, due, tre. Faccio colare così, a occhio. Ecco qua. Circa un sei cucchiai, va bene. E poi mescoliamo. Adesso, piano piano, che è caldo. Occhio. Che è caldo. Andiamo a mettere un po' di più. Abbiate paziente, ragazzi. Facciamo sì che il vaccino, tutto bene, tutto bene, si spera. Non se ne può parlare, Daniele. Non si sa mai. È purtroppo una cosa pericolosa. non fa scherzarci. Sono stato male una settimana, comunque, con il Pfizer. Allora, mettiamo un altro pochino di burro. Stare attento qui, se non vi brucio. Ecco qua. Via. Mescoliamo. Un po' caldo, logicamente, stati attenti. bene così, ragazzi. Adesso lo mettiamo in forno per una decina di minuti. Va bene? Ok? Prendiamo in forno. Prendiamo sotto qua. E via. Adesso, ragazzi, dobbiamo lavorare il formaggio. Faccio un po' di casino qua, come al solito. a tenere sempre la pulizia. Ragazzi, la pulizia è fondamentale. la pulizia è fondamentale. Bene. Ok. Allora, un contenitore, ragazzi, la pulizia è fondamentale. Una ciotola così, rotonda. E ci mettiamo il formaggio fresco. Qui c'è la birretta. Che spettacolo, ragazzi. Ovviamente è buono. Ok? Allora, formaggio. Ok. Io ho una frustina, formaggio, lo mettiamo qui. Via. Adesso. Adesso, lo iniziamo a lavorare. E ci mettiamo delle uova. vediamo che sta bene, ragazzi. Non lo so. Ecco qua, un'altra ciotola di formaggio. Ok? Adesso un 2. Ok? Adesso mischiamo. Il formaggio è a temperatura della stanza, ok? Non deve essere lasciato un paio d'ore fuori dal frigorifero. Un'oretta, basta. Adesso mischiamo così. Controlliamo l'ora. 10 minuti, abbiamo detto. Adesso io c'ho le uova qua, le aggiungerò pian piano, una alla volta, ok? Una, e mescoliamo. Pian, pian, pian. Ok? e ci mettiamo anche un poco poco farina. Ciao Stefano, alla prossima. Io ci sto passando all'ora. Non c'è, c'è problema. Ok? Pian piano, aggiungiamo un uovo, un poco poco farina, e via dicendo. Adesso, più pronto, la farina ce l'ho qui, nella credenza, devo spostare la telecamera. E vabbè, abbiate pazienza. e io distruggo tutto, come assoluto. L'ho trovata comunque. Scusate, ma non ero organizzato. Ok ragazzi, adesso ho poco farina qua, proprio un goccino, ecco qua, un goccino così, e continuiamo a mescolare. E ragazzi, pian piano, senza fretta, è una cosa spettacolare. Bene? Bravo, bravo, eh? Quella Pierpaolo! Sì, Pierpa! Che cosa hai detto? Ma dove sono? I calamari! Il mio regalo, dov'è? I calamari! Via, uovo! E continuiamo. E si gira ragazzi, si gira, si mescola, pian piano. È la prima volta che faccio la cheesecake, eh? Quindi, lasciatevi in pace, speriamo che sia buona. Allora, ecco qui, mescoliamo, ancora poco poco farina spruzzata proprio, a giro, la dovreste, ecco qua, filtrare, ma non fa niente. Continuiamo così, di nuovo, ovetto, e via, sono tre. Allora, continuiamo. Ci mettiamo poco poco sale adesso ragazzi. Sì, preparo la torta, via il pa, per i bambini, no? Eh? per i bambini. Gli piace la cheesecake, gli sto facendo la cheesecake, anziché che comprare, gliela faccio io, magari gliela tirano in testa, boh. Guarda che spettacolo, però, Eh? Allora, adesso aggiungiamo un pochino di farina, proprio a goccini, eh raga? Così non si formano i grumi. Un pochino di sale, poco poco sale, è proprio una puntina. Ecco qua. E continuiamo a girare. Adesso, fra un pochino, dobbiamo mettere un pochino di zucchero. Bene. Abbiamo lo zucchero. Ecco qua, lo metto da questa parte, perché, ecco qua, ce l'ho spizzato da sopra. abbiamo messo un pochino di zucchero. E continuiamo, un altro uovo. Siamo a quattro. Continuiamo a girare. E' uno spettacolo, ragazzi. Farina. Adesso io ci aggiungo anche noi yogurt, ragazzi, Ok? Grazie, Patrizia. Grazie. Diamo un copo d'occhio però alle nostre melasane e dobbiamo scendere ora. Sono pronte? Allora, facciamo lo spazio qua. Ecco qua, ragazzi, le melanzane al forno. Fa caldo. Continuiamo a girare. Adesso aggiungiamo uno yogurt. Ecco qua. e mescoliamo pian piano. Ragazzi miei, caro Guido, ecco qua. Continuiamo a girare. Un po' di farina. Poco a poco farina. Mi raccomando. ci siamo, Ci siamo? Bellissima, ragazzi, bellissima. Un altro ovetto. Siamo a 5. ecco qua, proprio perfezione. Chissà come va a finire, però, ragazzi, non è detto, niente garantito in cucina. adesso io ci metto un pochettino di burro anche qui, poco a poco e continuo a mescolare. Oh, ragazzi miei, spettacolo divino. Guardate qua. un'altra puntina di farina. Cioè, proprio vado col contagocce. Va bene? Adesso io dovrei avere qui il lievito Bertolini. Eccolo qui, lo buttiamo dentro. Siamo a cavallo. Continuiamo a girare. chissà come va a finire. Un altro uovo. Quindi abbiamo 6 uova. E ragazzi. Siamo a posto. Bene. Un altro goccino di farina. E vediamo come va a finire. Speriamo che sia buona. Un altro goccino di burro. E' fatto ragazzi. Va bene? Come la desideravo. Bella liquida. Vediamo un po' come va a finire. Se riusciamo, se ne esce un buon prodotto. Dove siamo? Ecco qua. C'è il mio panno. Scusate. Le camere. Sorsino di birra. Adesso, quei 10 minuti sono passati abbondanti. tiriamo fuori. Ecco qua la nostra telia. E ragazzi. Ok? Adesso mettiamo la la nostra salsina attorno. Ok? Per fare attenzione. bella, vero? Bella, vero? Ci vuole un cucchiaio, però, adesso. Ecco qua. un attimino. Cerchiamo di recuperare tutto il possibile. Non si deve sprecare niente. per fare attenzione. Ecco qua. Figli miei, amici miei. fermiamo bene la crema. Ma veramente bella, ragazzi. Cosa vi sembra? Eh? Ci metterei anche il cacao sopra. Cosa vi sembra a voi? E ragazzi. Adesso va in forno. La lascio 10 minuti a fiamma alta. Va bene? Non è neanche tanto calda. Vediamo un po' i complimenti dei bimbi. Ok. 10 minuti a fiamma alta e poi la abbassiamo. Ok. Ok. sempre più pulettina qua. Pettiamo indietro. Ok. Ok. ci siamo ragazzi. Magari facciamo un assaggino con le nostre brele trigliette. È solo un spettacolo divino. Eh ragazzi. Vediamo un po'. Assaggiamoli uno o due. un pochino di... un pochino di melanzane e poi ci andiamo a stragliare un attimino. Grazie Gabriella. Gabriele. Bebella. Cin cin. Grazie di tutto. Sei grande. Ecco qua. Allora. Piatto ragazzi. Un piattino qui. Ci mettiamo due belle trigliette. una bella trigliozza qua. Bella. Spettacolare. E raga. Uappalala. Opla. Uno. Un po' un peccino di polpo. Un pezzettino di polpo qua. Ua. È ancora tagliato. E raga. Guarda che spettacolo. E no. Ma che. Eh raga. Ah. Grazie Amos. Sei un grande. Sei un grande. Grazie di tutto. Allora. Un po' di salsetta ragazzi. La cosa più buona. Un po' di salsina. Per il pesce. Allora ragazzi. Ditemi voi. Cosa ne pensate. Trigliette. E polpo. Con le cipolle. L'aglio. Prezzemolo. E tanto olio d'oliva. E pomodoro. Ecco qua. Questa è la mia presentazione raga. E ora la assaggiamo no. Assaggiamo un pezzettino. C'è fame. Allora. Proviamo col polpo. Eh. Mi deve essere buono eh. Li ho presi a buon prezzo. Sì. Vanno bene. Molto buoni. Molto buoni ragazzi. Ecco qua. Molto buoni. Suo una fame. Poi la sbirrettina qua che ci fa compagnia. Vero raga. Mettiamo un po' di musica. Un po' di musica di un po' di tempo fa. Non nel mio tipo di musica ma va bene lo stesso. Chi vuol capire capisca. Ragazzi il polpo è straordinariamente buono. Asseggiamo la nostra teglia. Allora. Io mangio con le mani. Ma avete pazienza ragazzi. Buona buona. Buona buona. Buonissima ragazzi. ciao Beppi Beppi oggi niente favette Beppi ma ce li ho quasi sempre bicchierino di birra alla zio Vanni no ma che ah è una cosa buona troppo e trigger e boh boh buone veramente buone buone splendide adesso ho scosto il piatto ne prendo uno pulito perché ne voglio neanche un altro sono buone ragazzi sono buone ok prendiamole un'altra perché sono veramente buone la mia salsina aio 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 eh ragazzi bellino vero che vi devo dire grazie Beppi sei il numero uno un abbraccio a Giulio mi raccomando quando Dio vuole c'è da Cagliari puntatino in viaghero a trovare a Beppi a Giulio subito subito no è nel mio taschino scritto a vocaboli stampati non vengo da voi non vengo a Cagliari allora ragazzi guarda che guarda che bellezza è proprio spettacolo si scioglie in bocca gli occhi poco a poco i pesci poco a poco vanno benissimo buonissimo è un sapore unico sta sentita che stigna buone 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 è buono vai e sono due li ho fatte fuori allora ragazzi mettiamo un'altra birretta e ci mangiamo le melanzane va bene? ci uccide amici? allora però sono così belle che ve li voglio fare della vicina ragazzi i miei melanzane alla parmigiana riviste da Mao ok allora piatta e porchetta e andiamo lì in quarta c'è il peperoncino c'è il formaggio c'è un po' di tutto è bello è veramente bello e ragazzi guardate voi va bene? un pezzo di pane un pezzo di pane un bel pezzo di pane ragazzi ecco qua e assaggiamo birretta bel anzane pane e il ciccio giorno di ferie assolutamente relax ciao ragazzi siamo bergini lovely piece of bread red bread there we go wonderful wonderful still hot though ok now i'm gonna put on the fire for my cake bella roba raga buone canzettino buone buone a huh il buone buone do buone 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 tanti complimenti ho visto ragazzi grazie a tutti ci mancherebbe grazie a tutti un pezzo di formaggio col pomodoro buonissimo buonissimo mangiare piano piano come sempre un pochino di birra ciao gia chiantonella grazie non si mangia si pizzica alla sanna no? ho fatto triglie e polpetto spettacolari zia con un bel pomodoro aglio abbondante una cipollina e via ecco qui boh 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 e ho fatto le melanzane alla parmigiana ma col pomodoro fresco sbollentate nell'olio caldo due minutini via le ho fatte appassire nel sale grosso per un paio di venti minuti risacquate risacquate c'è un po' di peperoncino insomma sono buone veramente buone buone spettacolo in fondo c'è una cheesecake per i bambini speriamo che sia buona boh ecco qua bontà e dopodichè ci sdraiamo un po' ci guardiamo un po' di tv un giorno di feglie poi dopo quando arrivano i bambini apriamo la torta mangiamo la torta ragazzi è spettacolo qua veramente buono facciamo la scarpetta bene and guy top class even the chili is that good never waste food guys never one va bene tempo per salutarci ragazzi buona giornata a tutti grazie alla compagnia condividete che fa solamente piacere condividete il video ciao ragazzi alla prossima